Oh oh! Ali, Ali! Fe la dire! No, va bene, ve la dire! Si, a me, ma... ...ve lo sono manchino, lo sento! Hai fatto dire, cos'è? Ma non fai, c'è il video normale... ...ma, mi chiede a fare il video normale! ...ma, mi chiede a fare il video normale! ...ma, mi chiede a fare il video normale... ...ma, ma non fai il video normale! ...ma, ma, 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 ma... ...ma, ma... non risponde non rispondi ora c'è il vento ora c'è il vento ora c'è il vento ora c'è volato tutto guarda guarda all'aeroporto l'atterrage dell'aereo Stiamo vicino alla pista, guarda come si vede da vicino! Ma chiamila! Guarda la terra sull'aereo, va! Indiretta, indiretta! E' un'altra parte! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.